Il Signore degli Anelli, Prologo, Capitolo 2, a proposito dell'erba pipa. Ebbene qui far cenno di un'altra originale abitudine degli Hobbit. Sollevano a spirale o inalare, con pipe di legno e di argilla, il fumo proveniente dalla combustione di certe foglie, che chiamavano erba pipa o foglia pipa, e che probabilmente erano una varietà di quella che noi chiamiamo nicotiana. Un gran mistero avvolge le origini di questo sano costume, o arte, come la chiamano gli Hobbit. Tutte le notizie che fu possibile procurarsi le riunì in un libro made a Doc Brandybuck, Signore della Terra di Buck. E data la parte importante che tanto lui quanto il tabacco del Decumano Sud occupano in questo libro, è opportuno citare l'introduzione della sua opera intitolata L'erborista della Contea. E questa è un'arte, che sostiene, che possiamo certo dire di aver inventato noi. Quando gli Hobbit incominciarono a fumare nessuno lo sa. Tutte le leggende e storie di famiglia ne parlano come di un'abitudine esistita da sempre. L'idea fu Tobaldo soffiatromba di Pianilungone. Le varietà prodotte in quella regione, come la foglia di Pianilungone, il vecchio Tobia e la stella del sud, sono tuttora le più pregiate. Il vecchio Tobia non volle mai svelare, nemmeno in punto di morte, dove scoprì quella pianta. Sapeva tutto sull'erbe, ma non era un gran viaggiatore. Pare che da giovane si recasse espresso a Brea. E certo non si allontanò mai più di tanto dalla Contea. È dunque possibile che sentisse parlare della pianta a Brea, dove, ora perlomeno, cresce molto bene sulle falde delle colline. Gli obiti di quella regione pretendono infatti di essere stati i primi a fumare. Sostengono di aver fatto tutto prima o meglio della gente della Contea, che chiamano abitanti delle colonie. E su questo punto credo abbiano probabilmente ragione. Fu certo da Brea che l'arte di fumare l'autentica erba pipa si è diffusa recentemente fra i nani, i raminghi, gli stregoni, i viaggiatori che attraversavano quella regione e fra altre gente ancora. Il centro e nucleo di sviluppo di quest'arte fu così l'antica Osteria di Brea, il puledro impennato, di proprietà della famiglia Cactaceo, da tempo immemorabile. Ciò nonostante, dalle ricerche compiute da me personalmente durante numerosi viaggi nel sud, risulta che detta erba non è originale delle nostre parti. Credo provenga invece dallo Vesturia, e che fu poi da lì portata dagli uomini attraverso il mare. A Gondor è abbondante, più folta e profumata che non a nord, dove non cresce spontanea e per sopravvivere e fiorire ha bisogno di luoghi caldi e riparati come piani lungone. Gli uomini di Gondor la chiamano Dolce Galenas, e ne apprezzano solo la fragranza dei fiori. Forse nei secoli tra la venuta di Elendil e i giorni nostri, fu trasportata verso nord lungo il verde cammino. Persino i Numenoreani riconoscono che gli Hobbit furono i primi a metterle in una pipa. Prima di noi nemmeno gli stagroni vi avevano pensato, ma anche uno di loro che conoscevo tanto tempo fa, avesse appreso questa nostra arte e la praticasse, come tutte le altre arti che conosceva, alla perfezione. Grazie.